Il blitz estivo al Mario Spina aveva fatto saltare dalla sedia i tanti fan, adesso arriva l'ufficialità. Edoardo Bennato si esibirà al Teatro di Castiglion Fiorentino il prossimo 27 ottobre, ma non è finita qui. Anzi, il concerto non è che il gran finale di un progetto tutto castiglionese del cantautore, che proprio sotto la Torre del Cassero ha deciso di esporre i suoi quadri in una mostra denominata In Cammino. Mi piace avere ospiti a Castiglion Fiorentino, ma mi piace anche avere il giudizio degli ospiti su Castiglion Fiorentino. Qual è il tuo, Edoardo? Sarebbe troppo facile e scontato dire che è un posto ideale per viverci, però io, adesso riflettendo, fino a qualche mese fa non sapevo che c'era un posto di una Castiglion Fiorentina. Poi c'è stato appunto l'evento con Marchi Ramone sulla Torre e da allora si è creata questa... questo rapporto con il sindaco e quindi ci mette un piacere.